L'anticiclone delle Azzorre si estende sul bacino del Mediterraneo centrale, mentre sull'Europa centro-settentrionale continua ad agire un flusso di correnti atlantiche e a tratti instabili. In Toscana, lunedì 31 luglio, sereno velato in mattinata, sviluppo di nubi cumuliformi sui lievi appenninici nel pomeriggio, con possibilità di locali rovesci temporaleschi, venti a regime di brezza con rinforzi di liveccio sulla costa, mari mossi a nord dell'Elba con moto ondoso in attenuazione, poco mossi a sud, temperature in lieve aumento le massime. Sul territorio provinciale, sereno, poco nuvoloso, localmente velato, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 17, massima 32 gradi, a Castelnuovo Garfagnane, zone montane, minima 16, massima 31, a Via Regge sul litorale, minima 21, massima 28 gradi. Martedì 1 agosto, poco nuvoloso per velature e locali addensamenti.